infatti da allora non mi parlo più vabbè tanto era una cessa di bella ragazzi come state è da un po' di tempo che non facevo video e infatti mi sono accorto che vi siete dimenticati di me quindi sapevo che vi eravate un po' dimenticati ma dai io vi perdono adesso che mettete il codice forza vi do tutto il tempo era da un po' che non facevo video e volevo tornare proprio alla grande raccontandovi di quella volta che alle medie sono stato denunciato da una ragazza perché allora allora perché le ho chiarato l'account in pratica e siccome c'erano delle chat particolari quindi ora via il cappello e fuori il manganello quando io ero alle medie ero considerato uno bravo col computer perché comunque diciamo ci passavo gran parte del mio tempo era un tipo un po' nerdacchione e stavo spesso al computer nella mia infanzia io ho sempre adorato e ammirato gli hackers tanto che a mia volta volevo essere un super hacker lasciate un mi piace se anche voi avete mai avuto il desiderio di hackerare qualsiasi cosa dei vostri amici eccetera ditemi che non sono l'unico scemo e se sono l'unico scemo scrivetemi sei l'unico scemo voglio proprio vedere al tempo facebook era la piattaforma più potiente che ci fosse sulla faccia della terra era praticamente instagram di oggi diciamo era una piattaforma che tutti usavano quindi se tu avevi un amico siccome instagram al tempo ancora non esisteva dovevi aggiungerlo su facebook e tutti avevano facebook in pratica e quindi giustamente un vero hacker che si rispetti deve poter hackerare facebook e quindi io da bimbo 12enne cosa ho fatto sono andato su google e scritto come hackerare i profili facebook dei miei amici e ho trovato un sacco di video su youtube che spiegavano diciamo cos'è un fake login allora in pratica io con le mie super skill da programmatore cose che ho imparato proprio in due nanosecondi nei video che ho guardato imparavo a creare una pagina che assomigliava tantissimo alla pagina di login di facebook anzi era praticamente indistinguibile dopodiché la tattica era mandare stavo dicendo che praticamente creavo una pagina uguale a quella di facebook di login e mandavo il link ai miei amici in modo che quando loro avrebbero fatto l'accesso sarebbero andati sì su facebook perché la mia pagina di login li portava su facebook ma tratteneva i loro dati quindi se loro accedevano io ricevevo la loro email e password il che non è proprio un hack diciamo perché comunque sono loro che entrano nella mia pagina però è comunque un modo di rubare i dati quindi state attenti controllate un milione di volte soprattutto gli indirizzi dei siti più famosi perché potrebbe essere che magari soprattutto se l'avete ricevuto da link particolari o da siti particolari non l'avete scritto voi nella barra di ricerca potrebbero essere dei fake login dove magari un malintenzionato vi ha mandato un link che sembra una pagina di accesso a youtube e in realtà vi ruberà i dati cioè voi entrerete e vi porterà su youtube ma in realtà i dati andranno a lui ora io l'ho fatto per scherzo nel senso che comunque dopo aver imparato a fare il fake login ho preso e l'ho mandato a praticamente tutti i miei amici di facebook ho mandato il mio link e ho detto ehi guardate qua una roba fighissima non ci crederete sono morto ma la cosa che più mi colpì è che nonostante cioè l'avessi mandato praticamente a un sacco di persone anche persone sconosciute andavano poi a fare questo genere di cose qua perché tra i miei amici di facebook c'erano persone che erano della mia scuola che non conoscevo per niente in pratica però comunque si accettavano le amicizie di tutti al tempo erano proprio una roba così era strano vedere che persone che magari non mi conoscevano se non di vista andassero comunque a fare le cose che io gli suggerivo ossia entrate qua dentro vedrete una roba fantastica e così diciamo sette persone soprattutto capitarono nella mia trappola ora di questi uno era un mio grande amico gli altri erano tizia a caso barra tipe a caso ed è qui che arriva la roba interessante a par del fatto che ho visto di quelle password che veramente sono stranissime cioè io mi ricordo ancora per sempre una password che era fratelli italia boh è un... cioè sono strane perché tu vedi la persona e poi dici cosa una password del genere ma che senso ha quando poi avevo queste password io mi ricordo che feci l'accesso con l'account del mio amico e nient'altro il giorno dopo quando venne a scuola andai dal mio amico e tutto ridendo e scherzando gli dissi Pikachu con sei alla fine e lui tipo fa cosa e tipo capì che cosa avevo fatto capì che sapevo la sua password e voleva sapere insomma come avessi fatto eccetera 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 e io mi sentivo al settimo accello perché dico wow non ci credo e non so perché mi venne la bruttissima idea e secondo me io cioè boh io magari uno vuole aiutare le persone in realtà poi queste si arrabbiano con lui io andai dalle persone che mi avevano dato la loro password in pratica senza saperlo a dire guarda ieri ho fatto questo e mi dispiace di averlo fatto però volevo dirti stai attento perché io l'ho fatto non sono neanche entrato nel tuo account però sappi sappi che è facile da fare l'ho fatto io che sono un deficiente figurati se non lo può fare un malintenzionato quindi non conviene diciamo non stare attenti su queste robe oh l'hanno presa bene tutti l'ha presa bene anche una tipa che non mi conosceva per niente per niente no che l'ultima delle tipe doveva incazzarsi come una iena no 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 e subito adesso chiamo i professori chiamo tutti ti denuncio bla 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 io tipo ma sei seria ti sto dando una mano mi stai denunciando cioè ma what al che raga scandalo la sua password era caroline6 me lo ricorderò sempre pezza di merda che non sei altro vedi di cambiarla la password i professori non ne sapevano un cazzo non sapevano un cazzo di cosa fosse facebook non sapevano niente di niente di tutto questo mondo qua quindi dissero boh ok ma l'ha fatto anche ad altri lei fa si l'ha fatto anche ad altri no 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 adesso li chiamiamo tutti e andiamo tutti a testimoniare contro di te i professori non sapevano neanche cosa fare cioè non è che potevano mettermi una nota per una roba che neanche avessero capito cioè suo figlio ha creato l'account facebook di della compagnia what cioè ma non aveva senso quindi cosa fecero le due professori di riferimento più più grandi della scuola chiamarono tutti gli incriminati quindi tutte quelle persone a cui diciamo avevo preso la password o nessuno che ce l'avesse con me anzi mi hanno ringraziato tutti per avergli messo allerta di non fare più stronzate del genere nessuno voleva punirmi lei tipo ha fatto una figura di merda ostinata proprio lì tipo ma come ma mi ha rubato l'account ma mi ha mi ha rubato mi ha letto i messaggi confidenziali oh ce l'aveva assunto sti messaggi confidenziali dio ma non so avrà mandato una foto del culetto a un tipo ed allora boh non lo so non lo so cosa avesse ora sono sono curioso vabbè figure di merda a parte il giorno dopo chiama i suoi genitori che vengono tipo a farmi paura no davanti a scuola io zero problemi mi fanno eh adesso ti denunciamo guarda qua la denuncia bla 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 tutto pronto e gli faccio ascolti non sono neanche entrato nell'account di sua figlia esattamente per cosa mi sta denunciando tipo scena muta fine cioè la cosa è finita lì non poterono fare nulla perché io non ero neanche entrato nell'account mh ora questo non vi non vi può sollecitare a fare questo genere di cose fake login eccetera perché se non sbaglio adesso si può essere sanzionati per una cosa del genere laddove magari tempo fa non si poteva perché ragazzi vi ricordo comunque erano i primi tempi di internet cioè va bene nel senso è la polizia postale non era ancora una cosa seria il cyberbullismo non si sapeva neanche cosa fosse robe di questo genere qua quindi non dico che sono nato nel paleolitico ma quasi mi ricordo ancora che c'era la regina elisabetta che cavalcava i dinosauri a me rimarrà sempre impressa la scena dove comunque tutti la cosa che mi resterà più impressa è come tutti anche quelli che non mi conoscevano volevano difendermi aiutarmi nel senso dire guarda che è inutile che te la prendi con lui lui non ha fatto niente di male stai tu attenta a dove metti i tuoi dati però diciamo soprattutto da gente che non conoscevo sia maschi che femmine questo mi ha veramente stupito perché loro mi ringraziavano per avergli fatto capire l'importanza di non mettere i dati a caso a differenza di quella che invece probabilmente per la foto del culetto che ha mandato a qualche ragazzino arrapato ce l'aveva a morte con me infatti da allora non mi parlo più vabbè tanto era una cessa di merda musica 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 musica